Ora che abbiamo enunciato il nostro principio fondamentale della dinamica, faremo come in certi film di tanti anni fa, nei quali il protagonista precipita in un vortice misterioso e si trova, diciamo, un po' da capo all'inizio. Cioè torneremo a fare degli esempi di situazioni inizialmente molto semplici. La prima è veramente semplicissima, sarà quella di ritrovare la consueta legge di Newton. Poi ne faremo degli altri, via via più complicati, fino ad arrivare al quarto, che è decisamente già un esercizio non banale, diciamo così, di meccanica razionale. Ma visto che la lezione è lunga, non vi prendo altro tempo. Andiamo a vedere come sono questi quattro esempi di applicazioni del principio di D'Alembert che abbiamo enunciato. Prendiamo l'esempio numero 1, il più semplice. È un punto libero nello spazio. Quindi abbiamo n uguale a 1. Siccome n uguale a 1 non c'è struttura interna al nostro punto e quindi non ci sono sicuramente forze interne e neanche reazioni vincolari interne. Ci sono soltanto forze esterne e poi siccome è libero non ci sono neanche reazioni vincolari esterne. quindi rimangono soltanto due sollecitazioni. Quella che c'è sempre, quindi la sollecitazione di inerzia e poi la forza esterna che chiameremo, che rappresenteremo con un vettore forza che scriveremo F scalare W. Ecco allora dal principio discende che la somma di questi deve fare 0, quindi F meno P punto tutto scalare W deve essere uguale a 0 per ogni W appartenente al cono di questo punto P. Ma qual è il cono di questo punto P? Beh, il punto è libero e quindi il cono di P è tutto R3. E quindi il principio delle potenze virtuali diventa F meno P punto scalare W uguale a 0 per ogni W appartenente a R3. ma come al solito l'unico vettore che è ortogonale a tutti i vettori dello spazio è il vettore nullo e quindi questo vettore qua deve essere il vettore nullo. Quindi F deve essere uguale a P punto. Ora, o se volete, di P su di T, come si scrive a volte, uguale F. Se poi la massa è costante nel tempo, cioè non dipende dal tempo, allora siccome P per definizione è mv, abbiamo mA uguale a F. E abbiamo ritrovato la legge di Newton. Beh, questo era veramente facile. Allora, vediamo l'esempio 2 che è un pochino più difficile. È il moto dell'ottovolante, diciamo così, del carrello dell'ottovolante. Allora, diciamo, è il moto di un punto vincolato a una curva regolare. Quindi abbiamo una curva regolare nello spazio e abbiamo un punto che è obbligato ad appartenere a questa curva. Ora, a questo punto qui, diciamo, quindi abbiamo anche qui n uguale a 1 e da qui deduciamo subito che non ci sono sollecitazioni interne e neanche relazioni vincolari interne. gli esterni invece ci saranno perché c'è un vincolo. Quindi, questo punto avrà una forza esterna che naturalmente rappresenteremo con un vettore, una forza applicata esterna, un vettore rosso e poi naturalmente ci sarà la reazione vincolare. Quindi la reazione vincolare esterna ci sarà una phi e che sarà un altro vettore che disegneremo in blu. Così, per esempio. Adesso, vabbè, è difficile la geometria a fare una geometria tridimensionale. Perfetto. E poi naturalmente c'è la sollecitazione di inerzia. Quindi c'è il solito meno P punto scalare W. Ora, a questo punto, vabbè, il punto è uno solo quindi abbiamo un'equazione sola per cui abbiamo stavolta abbiamo Fe forza attiva esterna più Fi E reazione vincolare esterna meno P punto scalare W uguale a zero per ogni W appartenente al cono relativo al punto P in una sua posizione. A differenza dell'esempio di prima stavolta non è più vero che il primo fattore è zero non è più vero che Fe più Fi E meno P punto è uguale a zero e questo è importante perché perché W è vincolato cioè che cos'è CP CP è l'insieme di tutti i vettori della forma W T dove T è il vettore tangente alla curva che per ipotesi esiste dappertutto perché la curva è regolare quindi questo vettore T lo disegneremo qua in verde eccolo quindi la velocità virtuale sarà un multiplo di questo vettore qui e quindi potrebbe essere questa nera un pochino più lunga questa potrebbe essere una velocità virtuale ma anche quella opposta perché questo è un vincolo invertibile quindi anche questa può essere una velocità virtuale allora cosa succede? succede che a questo punto dobbiamo sostituire il W che abbiamo trovato quindi abbiamo FE più FI E meno P punto scalare W volte scusate W volte T uguale a 0 e stavolta questo è per ogni W attenzione appartenente a R questo è importante perché perché questo W è il modulo con segno del vettore W e questo sì che è arbitrario perché abbiamo la sua direzione l'abbiamo già messa dentro il vettore il vettore T che è un dato perché la curva è nota e quindi T è noto dalla curva quindi a questo punto l'unica cosa che io posso fare siccome W è un numero reale arbitrario è prendere un numero qualunque prendiamo per esempio W uguale a 1 prendiamo W uguale a 1 ma anche 50.000 anche 100.000 0 no perché 0 in questo caso annulerebbe tutto e quindi troviamo FE scalare T più FI E scalare T uguale P punto scalare T e basta diciamo questa è l'equazione che troviamo per l'ammissibilità diciamo così del nostro moto ok e quindi avremo che questa questa prima questo primo numero lo chiameremo FT tanto per fare prima perché non scalare poi avremo FI non mettiamo l'esterno perché è tutto esterno e poi avremo ecco quello che è più difficile da rappresentare adesso supponiamo M costante cioè massa costante ecco se la massa è costante questo diventa M A scalare T e quindi qualche cosa in più potremmo dire perché siccome la curva è regolare io posso parametrizzarla con l'ascissa curvilinea posso scrivere A in funzione di S di T se ricordate quando abbiamo parlato della parametrizzazione quindi uno prende un'origine da qualche parte su questa curva e chiama per esempio sigma anzi S di T ma diciamo così S di T questa distanza qua di modo che la posizione del punto è data anche da gamma di S di T come abbiamo detto quindi e allora diciamo usando P come gamma di S di T che sarebbe la parametrizzazione tramite l'ascissa curvilinea possiamo ci ricordiamo che A è dato da S due punti volte il vettore tangente più K la curvatura S punto al quadrato volte il versore normale quindi MA scalare T fa M S due punti volte T più K K anzi M M K S punto al quadrato T N scalare T ma N scalare T è 0 perché sono perpendicolari quindi questo termine non c'è e quindi MA scalare T è semplicemente M S due punti volte T scusate qui c'è un T scalare T ho dimenticato che fa 1 e quindi questo è semplicemente M S due punti quindi quello che troviamo è M S due punti funzione del tempo uguale FT più FT notate che ci è venuta diciamo così la proiezione dell'equazione di Newton sulla curva sulla tangente alla curva sulla direzione tangente alla curva che è quello che un pochino ci aspettavamo che tanto se uno proietta tangenzialmente la curva trova l'equazione di Newton adesso abbiamo un bel problema cioè diciamo va bene come facciamo a risolvere questo problema o prima di tutto cosa vuol dire risolvere questo problema beh noi cerchiamo anzi cercheremmo la funzione che a T associa S di T perché se noi conoscessimo questa funzione qui sapremmo sulla curva immaginando che localmente la velocità non si annulli non si annulli che questo punto ha percorso una certa distanza con un certo segno e quindi se noi sapessimo S di T sulla curva partendo dall'origine potremmo percorrere la distanza S di T e potremmo localizzare il punto P e quindi avremmo conosceremo con precisione la posizione del punto P il problema è rappresentato da questo signore in rosso perché FT FT potrebbe essere una cosa nota FT in generale potrebbe essere il peso la proiezione tangenziale del peso della trazione gravitazionale in generale FT è nota nota non vuol dire che è nota come vettore diciamo così come funzione di S di T ecco quindi diciamo in generale uno ha una forza come si dice posizionale ok e quindi c'è una funzione un'espressione che contiene S di T che conduce a far diventare questa espressione qua dentro nel riquadro funebre una equazione differenziale ma questa non è un'equazione differenziale o meglio non lo è finché non è noto FT ecco FT è in generale non noto non noto e verrà noto soltanto quando uno conosce il moto quindi in un certo senso qui il gatto si morde la coda cioè non è possibile determinare in maniera diretta quale il moto senza conoscere FT peraltro FT è noto soltanto quando si conosce il moto quindi è un bel problema cioè qui manca dell'informazione cioè ci sono delle cose che noi non sappiamo su questo FT e la cosa è anche giusta perché diversi valori di FT o diverse per meglio dire diverse espressioni di FT corrispondono a diversi tipi di curva per esempio se FT è uguale a 0 si parla di curva liscia e beh si capisce che cosa vuol dire no? qui abbiamo nel nostro punto questa è la direzione della tangente e FT giace nel piano perpendicolare a questa tangente quindi è perpendicolare alla tangente e questa è una caratteristica tipica di quello che di solito si chiama vincolo liscio che vedremo ecco in questo caso allora sì allora è possibile determinare il moto altrimenti bisogna pensare a qualcosa di diverso se la curva fosse ruvida l'espressione di FT sarebbe diversa ma bisognerebbe darla quindi manca dell'informazione a questo punto quindi se vogliamo andare avanti nel nostro esempio dobbiamo dare un'informazione quindi prendiamo per esempio la curva liscia anche perché è l'unico esempio un po' decentemente facile che si riesce a fare ecco allora a questo punto l'equazione diventa m sigma 2 punti di t uguale FT di sigma di t a volte se volete questo può dipendere anche dalla velocità e dal tempo se si vuole fare una cosa nota è una funzione nota di una variabile incognita questa è una equazione differenziale e l'incognita è la funzione che a t associa scusate era s non sigma era s di t ecco che a t associa s di t questa è la funzione incognita ora risulta che le equazioni differenziali in generale hanno tante soluzioni e ci sono tante soluzioni di un'equazione anche di questo tipo anche se sembra molto molto specifica però se si richiede che s di t con 0 sia un certo s 0 dato e s punto di t con 0 sia un certo v 0 chiamiamola così anch'esso dato allora se f se ft verifica opportune ipotesi cioè non è una roba strana ma neanche troppo può essere anche abbastanza abbastanza normale per fare dei per dare dei problemi si può dimostrare che esiste una unica soluzione in un intervallo di tempo i massimale non ci diciamo così i tilde perché i è quello in cui studiamo il moto massimale nel senso che non si può ulteriormente ingrandire cosa vuol dire questa storia dell'intervallo massimale chiediamola subito eh sì allora in meccanica classica può succedere forse l'abbiamo già detto una cosa terrificante può succedere che se io prendo una forza un po' strana ma neanche troppo strana può succedere che il punto vada all'infinito in un tempo finito cioè per ti che tende a un certo t asterisco finito la distanza percorsa dal punto sulla curva che naturalmente in questo caso deve essere ma può essere anche limitata diventa infinita insomma se pensate a una circonferenza il punto allora la percorre infinite volte in un tempo finito pensate che cosa strana è chiaro che una cosa così non è fisicamente ragionevole però matematicamente lo è questo spiega perché l'intervallo di tempo massimale potrebbe essere più piccolo dell'intervallo di tempo che ci immaginiamo che da noi di solito noi pensiamo che sia una semiretta cioè da un certo t con zero in avanti per avere un moto definito per ogni t in una certa semiretta allora f deve avere delle caratteristiche ulteriori e si possono si possono specificare anzi vedremo qualche esempio in cui riusciremo a trovare delle forze che sono determinate sempre che determinano sempre il moto volevo dire dopodiché questo tipo di movimenti qua è a voler essere Pignoli è noioso da determinare perché nel momento in cui il punto per esempio si ferma e torna indietro uno dovrebbe riparameterizzare tutto partendo dal punto di arresto pensate per esempio a un pendolo che incontreremo alla fine del corso si tratta di un punto che va avanti indietro su una circonferenza in certi casi ebbene quando il punto si ferma e lì in teoria bisognerebbe riparameterizzare tutto per fortuna ci vengono in aiuto ci verranno in aiuto degli altri parametri che aiuteranno a determinare il punto cioè non sempre l'ascissa curvilinea è il parametro da usare diciamo che qui vale una regola generale una cosa è il principio con tutta la sua specificazione teorica astratta un'altra sono i singoli problemi poi in casi singoli magari conviene agire in modo diverso che conviene usare dei trucchi comunque è così diciamo in generale questa cosa qui ha una caratteristica diciamo ha un valore locale sulle curve ecco vediamo un esempietto giusto per andare per non lasciare proprio le cose completamente senza applicazione il caso ovviamente dell'esempio 1 è talmente semplice che se uno o difficile perché lì c'è in mezzo dipende dalla complessità della forza f qui facciamo una forza molto semplice prendiamo quindi sotto esempio ecco prendiamo come forza la forza peso quindi meno mg per e3 in un certo sistema di coordinate e prendiamo come curva un'elica cilindrica che è l'unica curva un po' carina che abbiamo studiato quindi abbiamo un punto sull'elica cilindrica su un'elica cilindrica perché ce ne sono tante a seconda del passo o del raggio eccetera eccetera vediamo un attimo i colori scusate quindi abbiamo detto la forza la facciamo rossa e il vettore tangente lo facciamo verde benissimo la forza rossa il vettore tangente verde allora la forza è tutta verticale in questo qua è la forza peso quindi meno mg e3 la tangente se orientiamo l'elica in questo senso la tangente allora è questo vettore qua e osserviamo se ci ricordiamo che il vettore normale era in un vettore orizzontale ecco il versore normale era questo qua che giace giace in un piano orizzontale non so spero di non distruggere la la figura perfetto lasciamo stare la reazione vincolare che che poi vedremo tra l'altro più avanti come si determinerà perché non è zero la reazione vincolare cioè anche nel caso liscio la reazione vincolare non è zero come uno sa quando va sull'ottovolante c'è una reazione del binario verso il carrello ok allora abbiamo detto va bene la scissa curvilinea quindi è data da da sigma uguale radice di r quadro più lambda quadro dove lambda era il parametro della dell'elica va bene quindi l'equazione dell'elica era x uguale r coseno di t y uguale r seno di t mi sa che era a e z uguale a t ecco questa qua è l'espressione anzi mettiamo s scusate perché t non è ancora ok benissimo allora diciamo che hanno anche s non va bene scusate perché l'abbiamo usata per la lunghezza no allora il parametro lo chiamiamo u speriamo che stavolta funzioni ecco allora per esempio per u uguale a 0 si dovrebbe avere questo punto qua ecco e per un valore generico di u la lunghezza della della curva è data da r quadro più a quadro sotto radice per u benissimo allora adesso cerchiamo di scriverci la f t f t quindi sarà f scalare t ok allora f è meno mge 3 e va bene e t l'avevamo già calcolato e veniva ci andate a vedere quello che valeva t che si ottiene derivando t era il attenzione bisognava prima scrivere l'equazione parametrica normale quindi x uguale a r coseno di sigma fratto radice di r quadro più a quadro y uguale a r seno di sigma fratto radice di r quadro più a quadro e z uguale a a fratto radice di r quadro più a quadro per sigma e questa è la parametrizzazione normale poi bisognava derivare il versore t era la derivata di questa gamma fatta rispetto al parametro sigma ecco il risultato lo riportiamo tanto avete già visto quanto vale era meno mg per a fratto radice di a quadro più r quadro e in particolare è costante ecco perché t aveva delle espressioni diciamo la componente che ci interessa di t è soltanto la componente con la derivata di z perché tanto le altre sono orizzontali ma f è tutta verticale quindi quando io moltiplico scalarmente per e3 mi interessa soltanto la componente t di t diretta lungo z che è quella che si ottiene derivando infatti e quindi ci viene questo valore qua ok allora adesso abbiamo l'equazione quindi l'equazione è m massa del punto per s due punti di t che è la funzione che dà la lunghezza uguale a meno m a g fratto radice di a al quadrato più r al quadrato quindi le m si semplifica e otteniamo una s due punti uguale a costante e di conseguenza s di t sarà uguale a s zero più un certo s punto zero che va assegnato naturalmente che è la velocità iniziale nella direzione della lunghezza e poi c'è meno un mezzo a fratto a al quadrato più r al quadrato sotto radice per g t al quadrato e questo è il valore dello spazio percorso per la determinazione del punto ok a questo a questo momento se uno vuole sapere nei vari istanti dove si trova il punto deve ritornare a determinare u quindi questo sarebbe il valore di sigma ok ma u era dato era legato a sigma da questa relazione qua che sto sottolineando in blu e quindi vuol dire che u sarà sigma quindi s di t fratto la radice di a al quadrato più r al quadrato e di conseguenza le posizioni dei punti saranno x di t sarà tutto questo disastro qua dove al posto quindi sarà s 0 più s punto 0 scusate sarà un r coseno di s 0 più s punto 0 t bla meno un mezzo scriviamo solo questo a fratto radice di a quadro più r quadro g t al quadrato e fratto radice quindi fratto radice di a al quadrato più r al quadrato ok perché bisogna mettere no scusate dentro ho bagliato ecco dentro nel coseno bisogna mettere fratto radice di a al quadrato più r al quadrato sì è una complicazione vedete sono sempre queste equazioni qua una volta che sigma è stato dato da s di t e in modo analogo y di t e z di t e questo vi da la posizione del punto in ogni istante volendo complicarsi un po' la vita potremmo pensare di considerare due punti quindi un sistema costituito da un punto p e un punto q liberi nello spazio quindi questo sarà l'esempio 3 quindi due punti liberi essendo i punti 2 succedono due fatti sgradevoli insomma n uguale a 2 dice che sono possibili forze interne e di fatto noi considereremo per semplicità soltanto forze interne poi se uno vuole può complicarsi un po' la vita e aggiungere quelle esterne ma e poi e ben detto li prendiamo liberi quindi diciamo forze esterne uguale a 0 poi quindi reazioni sia interne che esterne 0 perché i vincoli non ci sono e quindi restano soltanto le forze interne la seconda grana è che siccome i punti sono due le equazioni sono due quindi avremo la forza f q p che q esercita su p e la forza f pq possono anche essere dirette al contrario se fossero repulsive che q esercita su p quindi andiamo supponiamo naturalmente che siano tutti i vettori e poi avremo diciamo così la p punto relativa al punto p grande che sarebbe praticamente mp vp derivato rispetto al tempo e poi avremo e poi avremo la p punto q uguale mq vq tutto derivato rispetto al tempo che saranno i vettori che rappresenteranno la forza di inerzia quindi cominciamo col punto p col punto p devo mettere la forza interna quindi la f qp scalare la velocità virtuale di p poi meno la p punto p maiuscolo scalare velocità virtuale di p uguale a 0 per ogni w di p appartenente al cono di p e teniamoci questa scriviamo anche quella di q ma poi facciamo soltanto lo studio su quella di p perché tanto l'altra è molto ma molto simile ecco qui ecco allora soffermiamoci su p a questo punto diciamo siamo tornati per certi versi all'esempio 1 perché possiamo raccogliere w di p e siccome il cono di p siccome il punto p è libero il cono di p appartiene a tutto r3 in realtà c'è un punto in cui p non può andare ed è esattamente sopra q ma questo è un altro problema perché se p raggiunge q allora p è la posizione p sarebbe la p sarebbe la q di t p 0 rispetto a una deformazione originale ma teniamocela p perché è più facile da trattare ecco dicevo p non può andare sopra q ma se p va sopra q diciamo succede che il moto non è più iniettivo perché i due punti occupano la stessa posizione in questo caso sappiamo che le leggi stesse della meccanica vanno diciamo bisogna riformularle e quindi in quel caso lo escludiamo a priori ecco cp sta in tutto r3 è tutto r3 scusate ecco e quindi diciamo anche qui come nell'esempio 1 questo vettore deve essere nullo perché w è libero completamente quindi fqp deve essere uguale alla derivata della quantità di moto nel punto p quindi sarebbe una derivata rispetto al tempo di mp vp e vabbè è la legge di newton ce l'aspettavamo non è che ci sia niente di trascendentale in questo fatto poi in modo perfettamente analogo fpq sarà uguale alla derivata rispetto al tempo di mq vq adesso cominciamo a sfruttare il fatto che la forza è interna quindi verifica per esempio il principio di azione e reazione questo va detto anche se veramente non è necessario per il nostro problema come vedremo fra un attimo se io faccio la somma io so che questo viene zero per il principio di azione e reazione e quindi per la linearità della derivata io ho mp vp più mq vq derivato uguale a zero e da questa uguaglianza qua discende subito che mp vp più mq vq è uguale a una certa costante che chiameremo pi greco grande zero che sarebbe la quantità di moto totale ed è un vettore ed è un vettore costante benissimo ecco a questo punto supponiamo le masse costanti ecco questo fatto che la quantità di moto totale è costante è un caso tipico di tutti i sistemi che non hanno forze esterne o reazioni esterne ecco supponiamo adesso le masse costanti ecco e introduciamo un un punto speciale detto baricentro g meno uguale dato da mp fratto mp più mq volte p meno più mq fratto mp più mq volte q meno o che è la combinazione convessa perché questo se questo è lambda allora questo si vede subito essere 1 meno lambda è la combinazione convessa dei punti p e q in realtà perché l'origine è semplicemente un serve per prendere per prendere il vettore si poteva fare anche la combinazione convessa dei due punti ecco qua il baricentro che si trova sempre sulla congiungente p e q ed è sempre all'interno dei due dipende dalle masse è spostato dalla parte della massa maggiore perché ho introdotto questo è perché se uno deriva rispetto al tempo se uno immagina che qui ripeto g è l'abbreviazione di chi g g 0 t p è l'abbreviazione di chi p 0 t e così via cioè sono le posizioni occupate dai punti nel loro movimento forse avrei dovuto scriverli con i piccoli con i piccoli e così ma vabbè ci siamo capiti e qui siamo in un esempio particolare allora se io derivo rispetto al tempo e suppongo o fisso io ottengo che la velocità del baricentro è data da mp fratto mp più mq per v di p più mq fratto mp più mq per v di q e quindi diventa 1 fratto mp più mq per mp vp più mq vq e questo è il motivo per cui ho introdotto questo baricentro perché la quantità che sto indicando in verde abbiamo scoperto essere una costante è uguale a pi greco grande 0 e quindi quello che risulta da questo punticino è che la velocità del baricentro è costante è un vettore costante e allora in questi casi uno potrebbe dire va bene allora possiamo pure ma non è necessario metterci in un sistema inerziale in cui il baricentro è costante e vedere che cosa fanno p e q perché quello che ci interessa è quello che fa p e q in realtà il fatto che ci sia o non ci sia il baricentro ci interessa fino a un certo punto se siamo interessati alla posizione relativa di p e q ecco adesso andiamo a vedere andiamo a vedere diciamo un problema più di tipo analitico cioè ma io il sistema di equazioni differenziali per le posizioni di p e di q cioè questo qui in blu che ho scritto in maniera molto astratta ma io riesco a risolverlo in qualche modo allora intanto notate intanto qui non avevo fatto ancora l'ipotesi che le masse siano costanti se le masse sono costanti allora possiamo portarle fuori e possiamo scriverlo in questa forma un pochino più semplice mp ap uguale fqp e mq aq uguale fpq e adesso ci diciamo va bene ma f questi f da che cosa dipendono e dipenderanno dalla posizione di p e di q perché a seconda pensate la forza gravitazionale questa è diversa a seconda di dove si trovano i due punti e però ecco c'è un però allora supponiamo di prendere due posizioni dei punti e quindi c'è questa forza che sto disegnando attrattiva e sto pensando a quella gravitazionale ora se io prendo un'origine così liberamente io ho che le posizioni dei punti p e q sono individuate da due vettori p- e q- quindi io posso pensare di dire va bene questa è una funzione fqp dei vettori p- e q- ecco una volta che ho fissato un'origine e naturalmente l'altra sarà una funzione fpq della stessa cosa ecco tanto è l'opposto della prima quindi non è che tanto diversa però attenzione uno potrebbe anche dire no a me quell'origine non va bene io ne voglio un'altra io voglio l'origine o' quindi io ho tutte le ragioni di dire che a me interessa il vettore p- o' che è p- o' più o- o' che scrivo come p- più un vettore u quindi o- o' sarebbe questo vettore qua e il vettore u ora l'espressione della forza per esempio fqp non può dipendere dalla scelta dell'origine o quindi deve essere la stessa sia che sia o sia che sia o' quindi diciamo la fqp funzione di p- q- deve essere la stessa funzione funzione di p- più u virgola q- più u ok e quindi è una fqp diciamo di v più u virgola w più u adesso dimentichiamoci il w come queste cose sono vettori posizione deve essere uguale a fqp di v w e questo per ogni u ecco se ricordate quando abbiamo parlato di invarianza per traslazioni avevamo detto che da qui discende che fqp deve essere una certa f chiamiamo semplicemente f della differenza v meno v e quindi una f in questo caso di p-q o q-p che è lo stesso perché tanto cambia la funzione naturalmente fpq sarà meno fqp e quindi sarà meno questa funzione f sempre funzione di p-q ma beh questa è un'osservazione interessante di invarianza in un sistema di questo tipo le forze interne devono dipendere solo dalla differenza quindi dalla posizione relativa dei punti benissimo adesso facciamo questo trucco riscriviamo il sistema che era mp a p uguale e sostituiamoci questo f di p-q e poi mq aq uguale a meno f di p-q e facciamo così evidenziamo ap e aq cioè dividendo per mp e mq che ovviamente non sono nulli quindi ap sarà 1 fratto mp f funzione di p-q e aq sarà 1 fratto mq funzione f di p-q con un bel segno o meno davanti perché erano opposte e adesso se io faccio la differenza ap-aq e dopo vedremo cos'è e qui si raccoglie f quindi viene 1 su mp più 1 su mq volte questa f di p-q ecco la cosa interessante è che ap-aq è in realtà semplicemente la derivata seconda rispetto al tempo di p-q ecco perché è l'accelerazione lineare ok e quindi io ottengo che se pongo per la gioia di tutti i fisici p-q uguale che dipendono dal tempo perché in realtà sono dei deformati r di t e poi 1 fratto mp più 1 fratto mq uguale 1 fratto mu questo mu si chiama massa ridotta ed è quella che si chiama la media armonica delle due masse e ottengo un'equazione del tipo r due punti di t uguale 1 fratto mu per f funzione di r di t perché più o meno q è r di t e quindi sono riuscito a ricondurmi a ricondurre due equazioni a una sola è sempre un'equazione vettoriale quindi non sarà un'equazione facile però è comunque un'equazione sola se f mi consente di risolvere l'equazione una volta che io abbia dato r di t 0 uguale r 0 la posizione relativa iniziale e r punto di t 0 uguale a v 0 vettore allora io avrò trovato diciamo così la posizione di p per esempio rispetto a q dopo i due possono traslare con velocità legata alla quantità di moto non mi importa però l'uno rispetto all'altro saranno distanti diciamo così di un vettore r di t che risolve semplicemente questa equazione che cosa è f f può essere qualunque cosa può essere per esempio meno g mp mq fratto r di t al quadrato per il versore e p meno q e vedremo o vedremo chi ci sarà al corso di meccanica celeste questo sarà il punto di partenza fondamentale di tutto quello che si chiama il problema dei due corpi ecco che è proprio il problema più semplice che si può porre in meccanica celeste se ce n'è uno ancora un po' più semplice quando c'è un punto fisso che attrae che attrae un punto e questo è il punto di partenza non abbiamo mai non abbiamo mai detto finora che f è diretta come la congiungente p e q perché è l'altro requisito che viene dal principio di azione e reazione diciamo di per sé la f che abbiamo usato finora potrebbe essere anche fatta così invece non lo è ecco il fatto che sia diretta lungo la congiungente invece dice che questo f è una forza centrale cioè che f come si dice f è diretta lungo p-q e quindi ha ulteriori proprietà che vedremo più avanti ma non sono ma ce n'è ancora una in realtà non c'è soltanto una simmetria riguardo un'invarianza riguardo la scelta dell'origine ma c'è anche un'invarianza riguardo alla inclinazione degli assi e questo diciamo questo si vede dopo un po' ma uno può ruotare il sistema come vuole e quindi questa f di r di t è in realtà anche uguale a f di una rotazione di r di t proprio perché uno può inclinarsi pensate a oscar e oscar primo uno può inclinarsi come vuole nell'osservare questi due posti e quindi questo implica un'altra cosa interessante cioè che f è in realtà una funzione del modulo di r di t e di fatti se ci pensate nella legge di gravitazione universale c'è il modulo non c'è non c'è il vettore ecco e vabbè si può fare un esempio più semplice della legge di gravitazione universale un esempio molto 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 più semplice quello in cui i due punti anziché essere attratti dalla legge di newton che riserviamo alla meccanica celeste siano attratti semplicemente da una molla di costante elastica k quindi la vecchia f uguale a meno kx versione scalare qui abbiamo la versione vettoriale cioè f di r uguale a meno k volte rk è un numero maggiore di 0 benissimo si ragiona esattamente in questo modo si scrive l'equazione che abbiamo scritto quindi mu r due punti uguale a meno k r tutta funzione del tempo questa equazione qua è si può scrivere in questo modo r due punti di t più omega al quadrato r di t uguale a 0 dove abbiamo posto omega al quadrato uguale all' omega al quadrato non la radice a k fratto mu ecco quindi sarebbe siccome 1 su mu è 1 fratto mp più 1 fratto mq sarebbe fra k per 1 fratto mp più 1 fratto mq ecco e questa è l'equazione dei moti armonici quindi un'equazione vettoriale stavolta quindi i punti si possono possono anche ruotare uno intorno al lato però si avvicinano e si allontanano secondo secondo l'equazione dei moti armonici e la pulsazione è data da omega uguale per chi ci ricorda la fisica 1 k fratto mp più k fratto mq e questo è interessante perché è la radice quadrata dell'omega legato alla massa p e dell'omega legato alla massa q cioè come se fossero perché come se fossero entrambe attratte da un solo punto va beh insomma questa è un'osservazione laterale ecco questo è tutto diciamo questo è il più semplice sistema che ha che ha dei punti cioè più di un punto e con una forza interna se volete considerare anche una eventuale forza esterna diversa allora le cose diventano decisamente più complicate perché avete un mp a p uguale fqp più diciamo fp esterna che dipende soltanto da p e poi avrete una mq aq uguale fpq più f esterno q che peraltro è completamente diversa dalla fp e adesso il giochino della della legge della massa ridotta funziona soltanto se fp ed fq esterne sono funzioni di p meno q perché altrimenti le due equazioni sono accoppiate e non c'è modo né facendo né somma né differenza né niente di determinare il moto in questo caso chiaramente uno avrà che la derivata rispetto al tempo se le masse sono costanti d della mp più mq per la velocità del baricentro come prima sarà stavolta data soltanto dalla somma delle due forze esterne cioè dalla risultante delle due forze esterne e quindi uno qua può sperare di determinare la posizione del baricentro perché non ci sono più le forze interne però il moto relativo diciamo dei due punti diventa molto molto più complesso se non si hanno delle informazioni ulteriori su fp ed fq così come il quindi questo diventa più difficile così come il sistema diventa più difficile se ci sono dei vincoli cioè se uno pensa di aggiungere a questi due punti un vincolo per esempio di tenerli su una anzi facciamo meglio qua così è proprio ecco supponiamo che un punto sia qua e l'altro punto sia qui e siano legati per esempio da una molla ecco allora in questo caso anche questo problema è difficile perché uno intanto deve scrivere l'equazione di Newton quindi mp ap uguale fqp e poi ci sarà la reazione vincolare esterna la fe applicata a p la fie scusate applicata a p che può farci anche il piacere di essere perpendicolare al vincolo e quindi magari poi scusate qui devo mettere anche il w quindi io avrò mp ap scalare w p uguale f qp scalare w di p più la reazione vincolare in p scalare w di p ecco e poi avrò anche mq aq scalare w q uguale f pq scalare w di q più fi q ci sarà ecco la reazione vincolare ci sarà anche in q ecco e naturalmente poi ci sono le due forze interne queste qua in blu allora se uno poi ha la fortuna di avere un vincolo liscio questi due pezzi perlomeno se ne vanno però attenzione perché non è come prima perché adesso wp e wq non sono completamente libere quindi io avrò delle equazioni proiettate quindi io avrò un'equazione come nell'esempio 2 mp mp scalare t il versore tangente nel punto p uguale fqp scalare t nel punto p e basta supponendo che queste siano zero per ipotesi di vincolo liscio ecco e poi avrò l'equazione mq aq scalare t nel punto q uguale fpq scalare t nel punto q che sono sì dei vettori noti ma ma sono dei vettori diversi e cioè t nel punto p sarà diverso da t nel punto q perché per esempio t nel punto q sarà mettiamo questo vettore verde e t nel punto p sarà quest'altro vettore verde quindi sono diversi e dipendono dal moto purtroppo naturalmente quindi uno può usarsi la scissa curvilinea però ce ne saranno due perché questo è un sistema per cui avrà ci sarà un mp per s due punti p di t nel tempo uguale a f q p diciamo così tangenziale e poi ci sarà mq s due punti q di t che sarà un f pq anche lui tangenziale ripeto dipende da dove si trovano p e q e saranno degli scalari il problema è che queste non sono delle equazioni diciamo così separabili perché fq p dipende dalla posizione reciproca di q e di p f pq anche ma non si riesce più almeno non in maniera evidente non si riesce più a fare il trucchetto della differenza forse si può darsi che si riesca se si fa la differenza però però secondo me a questo punto fqp è funzione di entrambi i punti e non è più detto che sia una funzione della differenza delle scisse curvi di india vabbè comunque a questo si arriva poi si può andare avanti a studiare diciamo è più difficile dell'altro caso ci aspetta però un problema un esempio 4 ben di più diverso e più complicato di questi due per cui lo rimandiamo alla prossima lezione intanto grazie dell'attenzione ecco questi primi tre esempi in ordine di complessità crescente sono tipiche applicazioni semplici del principio delle potenze virtuali sono tra l'altro delle domande che mi piacciono per l'esame perché sono applicazioni di cose fondamentali con degli strumenti che abbiamo via via costruito assieme adesso nella lezione prossima vedremo un esempio un po' più complicato è un esempio in cui si introducono dei vincoli interni e ne prenderemo, vedrete, il più semplice di tutti ma andiamo a vedere come funziona nella prossima lezione